In occasione della campagna annuale del FAI, i luoghi del cuore, si è costituito il comitato Amici di Rigosa, che promuove la candidatura del complesso parrocchiale di Santa Maria del Carmine, un borgo immerso nel verde alla periferia occidentale della città. La comunità ha anticipato la festa di Santa Cecilia, con un concerto della banda Bellini di Zola Predosa, che si è tenuto a causa del maltempo all'interno della chiesa, dove il parroco Don Alberto Mazzanti ha celebrato la messa. L'obiettivo principale del comitato promotore è la salvaguardia del viale dei Tigli, della chiesa e degli edifici adiacenti che fanno parte del paesaggio e della memoria storica di Bologna, ma si estende anche a varie iniziative ecologiche, come l'ampliamento della pista ciclabile nella campagna di Olmetola, Rigosa e Borgo Panigale. Il complesso parrocchiale di Rigosa, animato nel passato dal compianto Don Libero Nanni, che ospitava numerose iniziative di aggregazione, soprattutto per i malati e i disabili dell'Unitalsi, necessita di un restauro del corpo centrale della chiesa, interessata da un importante fenomeno di umidità di risalita. La speranza è anche quella di rifunzionalizzare l'antica scuola abbandonata da oltre 40 anni, per renderla disponibile ad attività sociali, la canonica e il parco retrostante. Un piccolo gioiello incastonato tra il torrente Lavino e la pianura coltivata, asseminativo e frutteto, tipico paesaggio della pianura non ancora contaminato dall'espansione urbanistica della periferia bolognese. Fu Matilde di Canossa a far costruire il primo nucleo della chiesa, che successivamente venne modificata e ampliata in diversi momenti storici, per essere infine completamente ricostruita attorno al 1885 e orientata verso la nuova strada di Rigosa. I 26 maestosi esemplari di Tilia Tumentosa, lungo il viale di accesso alla chiesa, hanno un valore monumentale, sottoposti a tutela della regione Emilia-Romagna, conferiscono un notevole valore paesaggistico a questo luogo già ricco di storia e di cultura. È un luogo bello, però certo che è impegnativo, perché, come si sa, ha un ambiente verde molto bello, ma molto grande, ma soprattutto impegnativo riguardo anche gli alberi qui alle mie spalle, che sono il viale di Tigli. Questi alberi adesso hanno bisogno di molti cure, sono tutelati, sono già un secolo alle spalle di vita e sono tutelati dalla regione, sono molto onerosi, adesso abbiamo bisogno di fare anche degli esami accurati. Ma essendo l'ambiente comunque bello e impegnativo, abbiamo deciso anche di concorrere come luogo del cuore, del FAI, per avere anche maggiori possibilità di tutelarlo e di preservarlo. Noi oggi possiamo orgogliosamente sostenere che abbiamo preso 3.600 voti, 3.600 sono veramente tanti per questo luogo e stiamo concorrendo nella graduatoria, nella classifica nazionale e ci stiamo attestando attorno al trentesimo posto come luogo del cuore del FAI. Tra l'altro a Bologna siamo assolutamente i primi, siamo nelle prime 5 posizioni dell'Emilia Romagna, per cui questa iniziativa sta avendo veramente un grande successo e un notevole riscontro.